ciao sono emiliano galli dell'agenzia immobiliare remaxi dal case e oggi mi trovo in via nicola copiello 20 una strada che unisce via aurelia a via gregorio undicesimo e ti presento l'appartamento regina di cuori è un appartamento in affitto al primo piano con ascensore in un contesto molto residenziale e soprattutto alla fortuna di avere un bel box auto ampio per una macchina e anche per utilizzo come cantina l'appartamento è completamente arredato a parte questa libreria che vi faccio che vi sto facendo vedere in legno è un soggiorno con l'uscita sul balcone un balcone molto abitabile comodo la cucina eccola qui la cucina anch'essa abitabile con l'altra uscita sempre sullo stesso balcone completa di tutti tutti gli etnodomestici qui c'è un bel capiente armadio a muro disimpegno bagno completamente ristrutturato la casa in ottime condizioni gli infizionano in alluminio doppio vetro ecco qui anche box dolce comodo e una grandissima camera da letto eccola qui c'entra tranquillamente letto con due comodini scrivanie quelle scrivanie non fanno parte del mobile quindi verranno tolte un armadio assegnante e poi anche dalla camera quindi bagno a parte il bagno che ha la finestra ma il resto di casa quindi soggiorno cucina e camera da letto hanno l'accesso sul sul balcone questa parte è abbastansibile del balcone con l'idea c'è un tavolo a faccia a sud è riservato rispetto alla strada faccio nel verde è un'occasione da non perdere se sta cercando se sei un singolo una coppia sta cercando una casa in affitto con la comodità del box auto vi raccompagno all'interno a breve sulla destra ci saranno i miei recapiti non esitate a contattarmi e questa è veramente una selezione imperdibile per vendere casa puoi fare tu le foto mettendoci tutto te stesso ma con un agente remax eccoci come va hai un team di esperti che lo fanno per te nel migliore dei modi per vendere casa puoi fare tu le foto per vendere casa puoi fare tu le foto Grazie a tutti.